tu vuoi sedere? mamma mia è arrivata una bistecca c'è un bistecchino? c'è un bistecca non c'è il bacio signori no, non c'è il bacio salve a tutti e ben ritrovati non ben ritrovati, ho la tosse ma la tutti e ben ritrovati ma perché mi devi ripetere le cose? perché mi devi ripetere le cose? perché io sono più bello sono più bello con la barbetta da capetta lei è Fefe, io sono Cocò e Ria Conciua ah, pensavo che tu eri Fefe e io Cocò no, sto giro sono sveglio, l'altra volta dormivo l'altra volta dormivo, va bene basta, parli troppo tu parli troppo, smettiti fino a un dito senti il capro morto no, che schifo non c'è il capro, me lo sono sentiti prima scusate se continuo a ridere, ma io basta che guarda la so facciata, cretino io mi sparerei nelle vene a guardare te non c'è niente spiega cosa facciamo oggi allora oggi, oggi, diciamo oggi, sottolineamolo sono riuscita a convincere Cocò di farsi la maschera d'argilla verde e quindi ho voluto prendere il momento e filmarlo e facciamo 20 strati di... mi ha convinto a farmi 20 strati e se io la volevo viola, ce l'hai l'argilla viola? no, non ce l'ho l'argilla viola ma esiste? penso di sì, non mi ricordo so che esiste la bianca, la verde poi c'è, ci sono altri tipi di... ragazzi scapperi ragazzi, mi sto solo... si stava scapperando non è vero dai, mi protezzano no, c'è i capperoni lunghi così ma sì, quelli sono i tuoi è piccola, ma con i capperi lunghi prima si è tirato fuori un capperone da naso che era alto così non è vero sì, è vero e poi ha corengiato forte e puzza non è vero ho mangiato il... mi ha detto l'osso ho mangiato il chebabbino e ora si sente piccate ma non puzzano bello il mio corengino anch'io, io ho scoperto che anche le donne ragazzi vanno in bagno e fidatevi che sono tremende vero? non è vero si che è vero no, non è vero e quando scorreggia lei è silenziosa maletana non è vero no, no, non è vero non dire barbagianate allora, per prima cosa ovviamente serve l'argilla no, mamma la verde usavo la farina una... stai zitto una ciotolina, ovvio si, ma... e la prima cosa che ho trovato per poterlo girare è questo qua e questo qui... bello, come si chiama? mestolo perché stai dicendo verde verde marrone allora premetto che io so che bisognerebbe usare di legno perché sennò toglie la proprietà dell'argilla per mescolare si sputa dentro no, no, non è vero si vuole un po' di acqua allora iniziamo a metterla ok io uso acqua e sapone lavo la farina, sono apposta non uso le creme verde, ma non è verde la spacciano per verde no, è verde, verde adesso è così poi quando la mescola diventa verde non è che sei dal tonico amore tu sei dal tonico poca buono 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 mescolo, mescolo non basta metti metti ma anche l'argilla per la dieta sei tu il cotecchino eh si allora vi devi tenere questa ma cacca ragazzi iniziamo ce la fai o hai bisogno di istruzioni ma potevi fare l'acqua calda però in teoria servirebbe l'acqua tetida devi stare rilassato non mi sfiori l'occhio e tende a chiudersi eh dai dai mi sto coso mamma mia non ti sfioro l'occhio, stai tranquillo eh però fai una casa veloce uno uno ma c'è solo sopra? sì no no tanto sotto c'è la barba la barba uno io a uno strato ridicolo è già andato due e sì diventerò l'uomo argilla ma finalmente la so facendo questa è due devi dire due sai di due due, dirlo in inglese come si dice due in inglese? salute tali cut coso tali cut coso e non ma ti 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 dai scommetto questo lo faremo però nei prossimi scommetto che tu non c'è da fare io ti metterò 20 strati e scommetto che tu non riuscirai a mangiare con 20 strati di argilla se volete vedere questa sfida con 20 strati di argilla provare a mangiare tanto riesce scrivetecelo nei commenti mi sta scivolando giù al labbro 10 grazie è divertente no non è divertente mi sta congelando il cervello madonna come sei amore hai messo l'acqua ghiacciata hai voluto tu mettere l'acqua questa come prendere i cubetti di ghiaccio attaccate lì in fronte è uguale ma anche una pentola a bollire e fa così una pentola a bollire una pentola a pressione 15 dai siamo quasi al traguardo va bene e fino dito nell'occhio però devi tenerlo aperto via c'è lì c'è lì 19 di 19 fai invernare il tuo cervelletto 20 finalmente ce l'abbiamo fatto provo a mangiarlo non ti metter davanti alla telecamera sembra un piatto eh a star con te 20 signori 20 20 mangiatelo allora vado a lavarmi le mani allora non c'ho l'orologio me la metto anch'io faccio due no scherzo ho fatto così tenita quindi mettila in ok adesso ho fatto 20 strati e vediamo facciamo asciugare un attimo ci vediamo tra poco ragazzi vediamo il risultato finale guardate cosa sta facendo sta parando vuole asciugarsi no non asciugare più fatti vedere girati di ciao per te quando fai l'anestesia ok ma vuole se sei un po' anestesia è vero è vero o non c'hanno più una questa congelata girati fatti vedere che o ma vuole ma vuole ma vuole ma vuole eh 20 minuti ci siamo quasi mi tocco così dici vediamo tra poco proviamo No dai, non lo farei mai Dici vediamo dopo Ci vediamo dopo Ciao Vai ridi Vai ridi Sì dopo ridere quando la palla Prova a ridere Non riesce Prova a non ridere Come vedete si è quasi asciugata Volevo dirlo io Parla tu Brava sei zitta Sono io che ho fatto la tortura 35 minuti di infonata Sono passato nel forno Elettrico Ad aria Ventilata Ok 20 minuti di tortura Farmela mettere Sono 50 minuti Vabbè ho capito Ci risciacquiamo o no? Vediamo risolta Adesso un'altra giornata Per sciacquare una prima Allasco No Devi bagnarti Guarda che figata Ecco Non ti faccio Cinque quintali di Ma si può fare una cosa del genere Che figata Intanto inizia ad aprire l'acqua Apri l'acqua? Deve essere tiepida Sì puoi segnare alla fine C'è la ragione E la verde Dopo per la via Tocca nero Ma va Dai amore Dai Un attimo Risciacqua Ti sta faccia Che poi va via Si scaccola No Cosa ti scaccoli Non ci ti scaccola No Tirando via la fare Eccolo Ragazzi Ti sto scaccolando Si era scaccolato Dai Non ci si scaccola Bagna la faccia Bagna la faccia Bagna la faccia Stai ferma Stai ferma No no Non dà perché hai ragione Così Ancora qua sei Ancora Fa vedere Girati Ma che faccio la tira Faccio le culo 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 Dai Finito Ok Io ti ho detto Bambino Metti strati Ebbè Eccola che dice Usa l'argillo Che poi diventi un altro La pelle Non ho detto Che diventi un altro Però ho detto Che comunque Ti dà un po' di Intrazione Idratazione La pelle È la pelle Quando sudo Mi vuol fare così brutto Che bella te Quando sudo tranquilla Che idratto la pelle E anche le ascelle Dai Ma sei serio Potere della scella Ho finito Ti fai asciugare Dov'è il coso? No Ha fatto un flash Nell'uscire dal bagno Guarda che faccia da scemo Sto con te Non è che solo bisogna Sare tanto normali Oh poverino Signori Solo per questo Un signor applauso Tanti applausi Tanti spollicioni Dammi questa cosa Che tu hai le mani corte Sono le mani corte Non le braccia corte E anche le dita corte Guarda che carini Sono Ciao Sono tornato un altro Io non ho il piccolo cacà E lei è mia mamma Se io sono il piccolo cocò Sono tornato un bambino Sei mia madre Sei vecchia Sei anziana Ah io sarei vecchia Sì E signori Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se vi fa piacere Lasciate tanti bei like Spolliciate Condividetelo Un signore applauso Per la mia Ridicolezza Grazie E detto ciò Ci vediamo alla prossima Con una nuova avventura Stravagante Ripeto Nei commenti scrivete Se volete vedere il video Che cocò si mette sempre I 20 strati Però stavolta Tutto il viso Stai ferma Tutto il viso E dovrà Anche mangiare Dopo che si asciuga Io vi dico Non scrivetelo Perché si si asciuga un attimo Ma riesce a mangiare Lei è convinto Vabbè Noi ci stanno Rompere le palle E detto ciò Ci vediamo alla prossima Un grosso saluto E abbraccio Da Fefe E Coco Invisito nell'occhio Ciao a tutti Ciao a tutti